Non basta un primo tempo di tenacia e orgoglio per la VL. I biancorossi cedono alla distanza la concretezza di Trento, seconda forza del torneo, che spugna la vitrifriguarena col punteggio di 74-87. Dopo l'intervallo si ripresenta una VL spaisata e con poca intensità che non riesce mai a rientrare in partita, squadra che ora proverà a risintonizzarsi con l'innesto di Cinciarini, che potrà dare una mano ma difficilmente potrà essere il salvatore della patria. Dal basket al calcio la Vispesero, caricata dal sostegno della festa per i suoi 125 anni, trova un ottimo punto a Perugia, rimontando per due volte ai vantaggi degli Umbri con Pucciarelli e Carson. Esultanza piena invece per la Fiorini, Pesero rugby che vince 15-18 sul campo di Badia, trovando la prima vittoria esterna della stagione e quattro punti che rifocillano la classifica. Nella Palavolo la Megabox Vallefoglia viene sconfitta in 3-7 dalla capolista Prosecco d'Occhi Moco Conegliano, mesce a testa alta dal Palaverde di Villorba. Netta la differenza di qualità rispetto alle Venete, imbattute 5 con 16 vittorie su 16 partite. Le Tigri sono restate in partita nella prima parte dei due set per poi cedere alla distanza di fronte ad una squadra lanciatissima, i parziali 25-18, 25-20, 25-17. Si perde sul più bello invece l'Ital Service che nella massima serie di calcio 5 cade 5-2 in casa con Mantova, interrompendo la striscia di 5 risultati utili. Mantova va sul 2-0 prima che la rete di Tony Dandel chiuda il primo tempo sull'1-2, ammiccando ad una rimonta che non c'è. Ad essere c'è invece l'accelerata dei Lombardi che segneranno altre tre reti prima del vano 2-5 di Murillo Schiochette. Famiglia è tal service che si consola con la vittoria del Loreto Basket per 64-72 in casa del Porto Recanati per una vittoria che apre al meglio il girone di ritorno.